Dopo il grande successo dello scorso video, in realtà non so se è avuto successo perché non è neanche ancora uscito, lo trovate nella in alto a destra, è arrivato il momento di fare il regalo anticipato di Natale a mia mamma, regalandole il mio vecchio iPhone 8 Plus da 256GB. Com'è nuovo? Mamma! Va a torre una sedia! Sì, prendola ti! Dai! Prendimi, dammi, dammi! Io ti do il tuo regalo di Natale! Mamma! Oh! Che lo stai facendo? Dai che facciamo il video! Eccola! La mia mamma! Due vestiti del rosso! Eh, tema natalizio! Aspetta che chiudo la porta così non rimbomba, anzi non lascia l'aperta. Questo è il cadavere di mia mamma! L'avete regalato voi il cadavere! Ah, è un iPhone SE e oggi faremo l'upgrade e non so cosa dire! E oggi passerà... Da questo a quello! Dall'SE all'iPhone 8 Plus! Non me sta più in borsa! Ma sai come ti vedi bene nelle mie Instagram Stories qua? Come prima cosa, spegni il telefono, tieni sempre l'inquadratura che devi far vedere cosa stai facendo. Eh sì, dobbiamo farlo vedere! Eh, adesso siamo degli YouTuber! Devi sbloccarlo proprio per spegnerlo! Sempre facendolo vedere! Eh, ehm... Tosorea! Così? Dai! Cheese! Slide! 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 Finita un'era! Saluta il tuo telefono! Scoperchiolo dalla cover! E se me casca per terra? Come fai a caderti per terra? Adesso non stanno vedendo che stai tirando via la cover, dopo non ci credono! Eccolo qua! Era comodo questo però, eh! Bellino, piccino, leggero, adatto per la borsa! Bene, ago e apri lo slot! Cioè, non vuoi dire cosa va a fare! Devi inserirlo dentro al buzo! Spingi! Urta! Sempre a far vedere! Ma non lo sanno fare loro! No, stiamo facendo un tutorial! Spingo! Spingi! E spingi? Eh, sto spingendo! Spingi! Ma mi fa male! Ma spingiti! Ah, già era proprio... Spingi! Estrai lo slot! Tienilo così perché sennò cade per terra la sim! Vedi? Eh, è qua! Partia! Partia la sim! Ti metto dentro la cassetta? Qua sono i soldi che carichi... Da, omite le... Tutti i miei dati! No! No! Qua sono le chiamate e internet! Ma perché so così impedire? No, non sai bene, non ce l'hai fatta! E accascialo di là! E adesso fai l'accensione del tuo nuovo telefono! Ma è uguale al mio? Sì, uguale l'identico! No, l'accensione... Cazzo! Ah, spacca l'accensione! Non che se più l'accensione! Dai, dove si accende qui? Eh, da che altra parte? Perché siccome... Ah, io si accenderò sopra? Sì, ma siccome è più lungo l'hanno messo qua a fianco così fa meno fatica! Ah, così si accorge? Sì, devi fare vedere che lo accendi! Se no non ci credo non lo stai accendendo, capito? Penso che noi siamo una bufala a questo video! Invece noi stiamo facendo robe vere! Verichiere! Cioè, ho posto, basta! Basta! Lascia strucare, tazzo! La mamma ha le mani ghiacciate! Adesso appena è entrato! Andiamo verso la scelta della lingua Scegli il tuo paese o la zona Italia Italia Sblocca sim Non sai il pin della sim Ce l'hai segnato? Devi andare a vedere Che scemo! Se ho iOS 11, tanta roba Non so neanche che sia iOS Hai le mani pulite? Davate? Ho la crema sulle mani Vai, le 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 dobbiamo fare il touch ID Sei fuori completamente Subedro! Eh, non va più in là Regola la presa Continua ad ottenere Ok, quindi Tieni il telefono come tengono la gente dai 20 ai 30 anni con una mano Continua E adesso devi farlo come se ce l'avessi in mano Cioè, è pazzesco Il doppio del mio Fatto! È aggiornato tutto questo Giornato al massimo livello Adesso stiamo facendo il backup dal computer Ho copiato il tuo telefono nel mio computer E adesso dal mio computer lo sto copiando al tuo nuovo telefono Quindi ti ritroverai lo stesso uguale identico telefono ma un po' più grande Funzionino in diverse dal mio? Ne ha quello in più? No È un iPhone È praticamente uguale dal 2005 quando l'hanno costruito Però è bello cambiarlo ogni anno Specialmente gratis Sì, nel caso tuo Questo me l'avete regalato due anni fa? Cioè, anche questo qua è gratis È il prossimo il Brondi Eh, vieni di ricoglionita Ma come vieni di ricoglionita, scemo? La tua vita vorrei fare Sì La tua vita vorrei fare Puoi fare le foto molto più belle Poi puoi fare le foto molto più belle E infine puoi fare le foto molto più belle Mamma, che brutto così Così meglio Così come Va come che te ti si taglia i capelli Così come i palazzari Te li tagliavo, mi ti metti sul capello così Ti arrasavo qua torno Track, guai la parrucchiera E così? Così, beh? Pensavo che da piccolo avevi i capelli lunghi E li volevi sempre lunghi Cazzo, potevo iniziare il video con questo, ero in tinta È finissimo con questo Eh, guarda il valentino Eh no Ho la testa piccola io Una volta avevamo la testa uguale La testa a caso? No Piccola Testa a caso te che ti scudo Ehi Finito il backup Mamma Ha finito Dobbiamo proseguire il video iPhone backuppato Scegli il tipo di feedback Perché praticamente A differenza del tuo Questo qua non ha più al tasto fisico È finito il tasto Ah Prova a premerlo Sì che cambia la vibrazione Parola Zoom schermo Vuoi la modalità standard O con zoom per gli over 50 Con zoom Con zoom per over 50 iPhone ti dà anche il venuto Spacca il telefono Uguali di indigo il tuo telefono O no? Tutte le foto Visto? Beh Tutte le foto Ti ricordi la prima foto che avevi? Cos'era? L'enia Fatalità Tua figlia preferita Mia mamma ha le preferenze Preferisce mia sorella a me Cioè La suoneria più brutta del mondo L'hai scelta te? Ma perché Quando ce l'ho in borsa Non lo sento Se Mi fa Sì sono mi Pronto? Mi senti? Bene Forte e chiaro Grazie Aspetta grazie Aspetta Ho il regalo finale Regalo finale Cazzo merda Ho fatto ginocchio contro ginocchio La sinna cover Eh Ci vuole Questa ci vuole Aspetta facciamo la miniatura Lo facciamo con sto iPhone Così farà più visualizzazioni E il mio? No facciamo finta che ti regalo questo Così il video farà più visualizzazioni Capito? No no Così sono gli youtuber un attimo Con problemi Sono Voi Progressive Tira via progressive Tira via il dito Tira via sto cazzo di dito Bene ragazzi Questo era il regalo Il mio iPhone A mia mamma Allora se vi è piaciuto il video Iscrivetevi Attivate la campanella Sì 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 In descrizione trovate Tutta l'attrezzatura Che usa mio figlio La sua carta d'identità La patente Colce fiscale No no Carta di credito No Quelli no Quelli non li ho messi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao!